Zitto, zitto, proprio bene sono a fuoco. Allora, ciao ragazzi, benvenuti con un nuovissimo video, sono di Efalltendi e oggi siamo qui nel secondo episodio di Batman Arkham. Spero di stare zitto, io sto parlando, ok? Dopo i diviti, gli spacco. Comunque, nello scorso episodio siamo arrivati qua e mi pare che dovevamo salvare... Oh! Che dovevamo salvare Catwoman. Se noi stiamo qua a ciccischiare, non salvevano mai Catwoman, la sparano, la ammazzano e poi è un bordello. Vai, 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 vai. Vai, vai. Boom, oh, buca la vacca. Bam! Io batti, vedi, gli batti, non sono mai fighissimi perché sono tipo frenetici, gli uomani, schiaffo nelf. Opa! Ok, 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 boom, bam, boom, oh, soffo nelf, oh, che schiaffo nelf. Opa! Boom, bam, tutti cappò. Tutti cappò. Guarda. Mamma mia. E mi sa che deve andare proprio qua. Andiamo? Allora, dovessi diventare, mi pare che sia andato di... Sopra, no, mi patrano, vabbè, credo che sia, si va di per di qua. No, per di qua? Si, per di qua, è troppo forte. L'unico modo per cavarcela in questo posto è farci rispettare. Allora, così si ottiene rispetto, facciamo vedere a tutti come lavoriamo. Ma dobbiamo essere equi. Questo è un luogo di giustizia, dopo tutto. Nessuna giustizia. Ucciderà, e tutti ci temeranno. Portateli in potato. Sa certamente come tenere le donne sul filo, Harvey. Ehi, hai fatto qualche ritocchino qui? Questa è per averci derubati. Nessuno osa rubare a noi. Oh, scusa, sono una gattina cattiva. Se mi sleghi, mi farò perdonare. Vediamo se la moneta pensa che tu dica il vero. Questa corte è in seduta. Silenzio in aula! Ah no, dovevo combatterti quelli. Credevo che dovevo combatterti quelle persone. Mi sono messo paura, però... No. Ok, vai. Questo episodio è tutto il combattimento. Le bambe, le botte, le malabalano, fneuf. Oh, 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 oh. Oppala, oppala, oppala. Allora, andiamo a salvare il catwoman, così ce la baciamo e facciamo un figlio. No, 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 no. Che pensate, tutti i zazzoni? Che pensate? Manca l'ultimo? No. Ma spesso? Ma spesso? Fatto mai messo? Testa o croce, cattina? Con quale delle due esco viva? Non conquista. È ora di morire. Chiedo un rinvio dell'esecuzione, vostro onore. Oh, mamma mia. Cioè, gli è sfigurato l'altra faccia bella che treva. Nessuna pistola? Succa. Mmm, 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 mmm. Questo farà molto male. Due pistole, stronza. Oh, non si riesce a farlo oggi. Allora, ci riesce. Solo io posso dire. Ah, proprio come un salano, guarda la mano. E nove vite. Ma troppo bella la tua, ragazzi. Troppo bella, troppo bella. Troppo bella, voglio far manda. Ma, 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 ma. Allora, come va, Harvey? Aia. Vieni qui da me. Non ti ha mai detto nessuno che sei pieno di sorprese. Pensavo che ti servisse aiuto, Selina. Hai ragione. Ho paura di essermi spezzata un'unghia. Certo. Cosa ti serve, signor detective? Protocollo 10. Che ne sai, Selina? Mai sentito. Non è questo che volevo sentire. Dimmi di Strange. Inaffidabile. Prima sparisce per anni. E poi all'improvviso lo mettono a capo di Arkham City. Dicono che stia lavorando con Joker per preparare qualcosa di speciale solo per te. Sarà questo il protocollo 10? Oh, la vola, pipistrello. Joker. Che io ammazzo il tuo gatto più bello. L'ex procuratore distrettuale ha detto qualcosa. D'accordo, diavolo. Alla prossima, Patron. Che voglio? Questo posto è pericoloso. Mi piace. Ti andrebbe un bacio. È stato Joker. Non sei al sicuro qui. Nessuno. Io lo voglio, il bacio. Nuove vite, no? Devo trovare il punto di ingresso e il punto di impatto del proiettile. Quindi dovremmo praticamente diventare un detective. Ciao, due facce. Ma potrei fare così. Però non posso, quindi ti sei salvato. Allora, praticamente, scanner. Ok. Colpo è venuto da qua. E ora. Ok. Colpo è venuto da qua. e poi caduto qua. Oh, dove cacchio vai? Batman. Ok. La traiettoria del proiettile mi condurrà al colpevole. Sì, Joker. È Joker. Torre dell'orologio. Dovrei che si chiamava così. Torre dell'orologio, sì. Allora, non mi ricordo se se spiega il vigore 10. Cioè, il vigore. Se spiega il protocollo 10 nel gioco. Però mi pare che sì. Però non vorrei spoiler la B. Cioè, io so cos'è il protocollo 10. Però non vorrei spoiler la B. Ma io mi sto zitto. Magari ve lo dirà il gioco più avanti. Ah, sì, combatto ancora. Faccia a pugno. Guarda, 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 guarda. Che coglioni. Faccia a faccia sono stati avendo, comunque. E comunque si può uscire anche da sopra, quindi... È un po' di intelligenza. Oh, non muore quello. Perché è possibile? Oh, nel culo. Un pugno nel culo. E questo ovviamente si bugga nel qua. Però vabbè, allora dove dovevo andare? Batman, dove dovevo andare io? Scusa. Nelle torri, ma la torre dov'è? Torre dell'orologio. Torre dell'orologio sta... Non di qua. Di là, di là, di là, di là. Ok. No. Morite. Bastardi. Mi spacco un attimo la faccia. Aspettate. Oppala. Guardate come mi spacco la faccia bene, ma... Ma qui c'è qualcuno... C'è qualcuno quando... Entro alla porta. E mi ricordo che ci sta... No. Ora più avanti. Sai come mi ricordo? Ma proviamo. Alla chiesa. Pare che Harley Quinn sia all'interno. Ma mi ricordavo bene. Le donne le tende sicuramente una trappola. Tranquillo, Alfred. Queen non è proprio un genio. Me la caverò. Andy Quinn però sta messo bene. Cioè, se su Catwoman mi sono un attimo... Su Queen io non posso... Cioè, io non posso. Non posso. Non posso. Io mi faccio... È capito? Comunque, oltre questa volta strada, quindi... Appunto. Beh. E lei mi è venuta a guardarmi bello. Ti consiglio di fare come dice. Sarebbe un peccato sporcare di sangue al mio bel complotino nuovo. Che ne dici, Batman? Ti piace? Sì? Che domande. Certo che sì. Eh sì, sì. A chi non piacerebbe? A me piace. Cos'altro è buio, non posso. Ok, sì. Non volevo dire quello. No. Non sta bene. E quella cretina della dottoressa non ha migliorato le cose. Ok. Anche questi imbecilli sono più svegli di lei. Ok. Però tu non è che poi sei intelligente. Poi ci metta di girarmi intorno. No, non dartene, dai. Non dartene. Non dartene. Non dartene. Ah, mh. Mh. Quindi? Comunque, siamo rimasti da sui. Quindi... Non c'è bisogno più di fare il gentleman. Mi spaccherò la faccia. Ok, va bellissimo. Allora, chi uccide per il primo? Allora... Morirai tu. È certo, è certo, è certo. Io lo farò, lo farò, lo farò. Guarda. No, malonna mia. Mi sto sbagliando. Ciao. È morto. Ok, ciao, ti ho salvato il sedere. Sì, sì. Ha fatto un bel po' di rumore. Vero? Uh, uh. Nemmeno lì. Oh, che è questo Sparco Barò? Oh, che è? Riesco a superare quei due senza essere visto. Posso eliminarli come una sua messa? Piano, 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 piano. K-A doppio. K-A doppio. No. Oh, vaffanculo. Ti permette di parolacce. Nel mio video. Solo io posso dire. Scempi. Spacco la faccia. La stanza è sicura. Ora siete in salvo. Sì, sì. Ciao. Non sei sexy come le altre, però. Ma è maschio. No, è femmina. Sì, grazie. Prego. Che devo fare? Devo parlare con voi? No. Mmh. Bene. Ti devo parlare. Agente Ainz Bischoff. Ainz Bischoff. Credi che se la caverà? Penso di sì. Ha preso un brutto colpo in testa quando è entrata Harley Quinn. Dobbiamo radunare una squadra e rispondere. Sono in troppi, agente. Rimani qui con i feriti. E due è andare qua. Vedi, io sono troppo forte. Io sono un detective nato. Io Batman, a me mi chiamano Batman 2. Perché io, cioè, forte, forte, forte. Ciao. Ok, si va di... Ecco. Ciao Joker. Ecco il fucile. Pare che Joker lo controllasse a distanza. Scandello. Ovviamente il fucile, ovviamente. Oh. Oh. Ma guarda che c'è. Non ti vedo da... Riferimento al gioco... L'altro. Adesso devi pensare solo alle bombe. Bumbe. Forza, forza, il tempo scorre. A fa culo. Via. Esclava tutto. Siamo riusciti anche a sopravvivere a questo. Dopo questo sono troppo forte. Ho isolato il segnale usato per telecomandare il fucile da cecchino. C'è Joker dietro a tutto questo. C'erano forse dei dubbi? Il segnale radio mi condurrà dritto da lui. Da dritto da lui. Buona fortuna, se vedo. E non ti siete tutti. State per voto dei primi incerti. Un mondo di divertimento e malefatti e soprattutto... Addestramento in realtà. Oh, cazzo, cazzo, una foto addestramento a me. Ma io so già assolutamente, ma addestramento a me. Manca il mio occhio. Devo trovare un altro accesso per l'acciaieria Sayonis. Ha provato una porta principale, sè. Perché non ci ho pensato? Troppo ovvio e semplice. Vediamo se tutti gli altri ingressi sono sbarrati. L'unico modo sarebbe... No, è un suicidio. La ciminiera principale. Ok. Vai e batto, vai e batto, vai e batto, vai e batto. Un punto da neve. Vai e batto, vai e batto. C'è un po' di... Ciao. Guarda, dove devo andare? Di là, ok, vai. Allora, voglio andare per di qui. Scivola durante la borsa, aspetta. Ok. Qui si salta. Qui si salta. Ok. Ok, allora io... Oh, bello, bello, bello. Battertiglio, vai. Buono. Lascia cadere, vai. Pure con l'acqua, non mi interessa. Appendi... Eh? Che devo fare? Appendi il bordo. Quale bordo? Quale... Quello bordo, no. No. Appendi il bordo. Ah, così. Eh, so studio. So studio. L'ho fatto anche prima, l'ho fatto. Vabbè. Vai Batman, vai. Ok. Benissimo. Devo andare qui. Qui mi cade qualcosa in testa, mi ammazza. Oh, madonna. Devo andare sopra? No. Devo... Dove? Ragazzi? Devo andare qua? Sì, 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 sì. Ok, vai. Ok. Modalità detective. Già l'esplosivo. Ok, sì, va giù. Sbagliate a mettere, sono stupido. Guarda quando sono mogoloide. Vabbè, uno in più non guasta, vai. 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 Fai esplodere, vai. Oh, e fai esplodere. Su scema. 50 anni, se vuoi fare esplodere una cosa, va. Tutto stupido. Comunque credo di dover correre, eh. Probabile. Oh. Posso... No, non posso... Lancia il partner. Là. Mamma mia. Sì. Gioccarlo fa apposta. Si finge malato e poi, mamma, tutti fregati. Non saprei, amico. È davvero malato. Vuoi? Vi ho promesso del divertimento, no, ragazzi? Mi prendo. Ci ho provato. Beh, avresti dovuto provare di più. Ah! Oh, no, no. Quella gialladana ha fregato Joker. E sapete cosa vuol dire? Oh, possiamo fare di meglio. Entra pure il mister partello. Arrino, Joker? Quindi? Se andrebbe di qua. No. Per di qua. Chiudo. Due cacchi di onda. Per di... Ok, per di qua, per di qua. E vabbè. Giustamente. Il fuoco. Vai, vai, vai. Ah, di qua. Questi qua non è che si scocciano di dire, eh, flon, eh, flon, eh. Oh, cacchio. Ma questo muore bruttissimamente. Si va alla camera di fusione. Ehm... Ok. Come è l'uscita qua? Soggettiva. Tieni premuto. Com'è? Oh. Oh. Di chi stava parlando, Arley? Mare che abbia dichiarato guerra a Prince. Il vapore blocca l'uscita. Non ci sono nervi. Se risalgo lungo il tubo potrei trovare il modo di chiudere il flusso. E salire lungo il tubo. E salire lungo il tubo. Come? Oh, ok. Ok. Ma come? Ok. Vai. Credo di esserci riuscito. Vai, 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 vai. Vai, Batman. Vai, Batman. Ci sono riuscito. Vai, vai, cazzo. Vai, cazzo. Ok. Si combatte. Ok, vai. Si le botte le mazzate pesanti. Ok, vai, vai, vai. Vai, batte. Vai, batte. Non vai, batte. Non vai, batte. Si può già incominciare a tirare le occhi. Quindi si fa un po' più difficile. Però no. Aia. Mi metto a soglia la bastard. Mi fanno curare di merda. Sei bello, ma. Lo dico io. E va, cazzo. E va, cazzo. E schiaff nel. E bu. E schiaff nel. Bangate. Bangate. Ma mi sto rimpiando di mazzate. Boom. Bang. Boom. Beach. Vamf. Badamuff. Bounce. Tionf. Badamuff. Butta, butta. Butta me la bacia. Butta me la bacia. Butta, butta. Vai. E va, fambole. Boom. Pure da soffare quello. Sono più forte io. Che diavolo ci fai tu qui? Dovresti essere già morto. Beh, non riuscirai mai a raggiungere Mr. J. Quassù siamo perfettamente al sicuro. Per me puoi restare laggiù e bruciare. Un Batman ci vorrebbe aver buttati giù e morire. Alfred, Joker è nell'ufficio del direttore dell'acciaieria, ma non ho modo di raggiungerlo. Confido non lo sarà a lungo, Sir. Ovviamente. Alcuni tirapiedi hanno trascinato via una dottoressa. Sistemerò Joker dopo averla trovata. Ok. Però. Sì, facciamo. Stanno parlando quei due. Vabbè, comunque. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciato un bel like. Iscrivetevi. Questo episodio è finito. È durato un po' di più di quell'altro. Però comunque è molto bello. Nel prossimo episodio vedremo Batman che fa il culo a Harry probabilmente. Non mi ricordo. Però comunque vedremo sicuramente qualcosa di bello. Noi ci vediamo al prossimo video. E nulla. Ciao ragazzi.